Il computer, per chi ne viene dalla pratica pittorica, è un pennello potentissimo che ne combina di tutti i colori. Spesso provoca negli artisti una forma di innamoramento analoga all'innamoramento che molti automobilisti provano nei confronti della propria autovettura. Essi la guardano ammirati per come sa muoversi e considerano irrilevante la destinazione, cioè la destinazione è nient'altro che un pretesto per farla muovere. Anche molti artisti guardano ammirati a cosa sa fare il computer, però considerano irrilevante il fatto che esso sappia simulare perfettamente il colore del mare. Per questo non dovrebbero progettare mai qualcosa che rimandi al lavoro del pittore, nemmeno una marina, una marina che sembri una vera marina dipinta da un vero pittore.